Allora, la prima questione importante è legata al tentativo che il Governo ha fatto e comunque continuerà a fare, in modificare la procedura. Noi abbiamo incontrato in varie modalità, in vari assetti, entrambi i soci di Air Italy che per una serie di ragioni ci hanno confermato la volontà di mantenere in campo la procedura di liquidazione in bonus e di non aderire alla nostra richiesta, che comunque continueremo a fare, di modifica della procedura. Il Governo farà un intervento legislativo per garantire il reddito ai lavoratori e il timing della liquidazione sul fronte dei rapporti di lavoro verrà concordato e negoziato con i liquidatori da parte del Governo. Quindi abbiamo preso il tempo che ci serve per sostenere le lavoratrici e i lavoratori. Due, il Governo si è impegnato a agevolare un rapido tavolo tra sindacato e liquidatori, al quale peraltro noi parteciperemo, non nell'assetto attuale, ma faremo partecipare ovviamente i nostri collaboratori. Tre, il Governo si è reso disponibile a valutare ogni ipotesi di soluzione industriale tra le varie possibili nel nostro Paese, anche con l'apporto del sostegno delle due regioni più coinvolte, appunto la Sardegna e la Lombardia, e il Governo si è impegnato a rendere, diciamo così, i protagonisti di questa fase di modifica dei regolamenti, almeno quelli che dipendono direttamente da me, anche la parte sindacale, perché appunto lì noi tocchiamo un punto che ha un nervo scoperto della questione aerea.